buongiorno a tutti benvenuti eccoci qui live oggi martedì 21 di novembre ore 11 e 16 è solitamente l'orario nel quale siamo online in diretta su classe cnbc chi mi segue assiduamente magari anche in televisione anzi soprattutto in televisione lo sa oggi però causa un convegno la consueta diretta analisi tecnica non va in onda ma noi rimediamo con questa trading room con questa live sul canale telegram e su youtube quindi andiamo subito a vedere come sta andando il mercato e sta oggi vediamo un segno rosso un segno rosso e la candela daily qui in basso a sinistra siamo con un fuzzimib che perde lo 0.61 per cento strainato a ribasso dalle banche in particolar modo che dopo tanto correre stanno ritracciando in particolar modo il titolo che fa peggio questa mattina mps dopo che è arrivata la notizia ieri a mercati chiusi della cessione da parte del dello stato del 25 per cento delle azioni andiamo a vedere il la panoramica veloce in alto a sinistra di quelli che sono i segni dei vari indici dei mercati più importanti bitcoin andando in ordine alfabetico meno 0.21 37.347 dollari il dax vicino alla parità 15.971 alle soglie dei 16.000 punti euro stocks invece perde lo 0.09 comunque abbastanza vicino alla parità euro dollaro stazionari 1.0946 puzzimib come dicevamo che perde lo 0.64 mentre il btp recupera uno 0.23 per cento e con lo spread in leggera contrazione meno 0.23 168.89 basis point mercati americani in territorio leggermente negativo in questo momento meno 0.05 il nasdaq meno 0.12 per cento l'S&P 500 andiamo a vedere la nostra lista delle esplorazioni delle performance della giornata un attimo solo di pazienza c'è sempre qualche piccolo gap dovuto alla linea sulla ci riproviamo ci riproviamo subito dicevo qualche piccolo ritardo dovuto alla linea sulla vps ogni tanto capita ma riproviamo immediatamente a ricollegarci alla vps quindi virtual private server che lo ricordo per chi non lo sapesse che è un server nel quale si può albergare si può andare a mettere le proprie piattaforme di trading automatico in modo da fare trading in sicurezza tutto il tempo dell'anno 24 ore su 24 senza avere problemi di sorta c'è qualche ritardo su qualche problema appunto di linea quindi momentaneamente rimaniamo quindi in condivisione schermo sulla trading view torneremo dopo nel all'interno del pc dove eravamo prima del pc virtuale dove eravamo prima e andiamo a rispondere alle vostre domande nel frattempo ne sono già arrivate diverse mi pare i livelli sul btp e poi mcdonald palladio fiera milano ok allora partiamo dal btp abbiamo visto poco fa performance leggermente positiva per il btp andiamo a prendere il future eccolo qua abbiamo praticamente avuto due key reversal ribassisti consecutivi se ricordate già da venerdì scorso avevo ipotizzato che ci potesse essere un sello news quindi nel caso in cui ci fosse stato un esito positivo dal giudizio di mudis che si potesse andare a fare un nuovo massimo per poi ritracciare più o meno è andata così perché più o meno perché già venerdì abbiamo avuto un key reversal ribassista una chiusura negativa meno 0.23 rispetto alla chiusura di giovedì poi ieri siamo saliti per parte della giornata ma senza andare a superare il massimo del giorno prima nuovamente con una chiusura debole non è stato un key reversal ribassista per poco la chiusura è stata più 0.04 per cento e il massimo è stato superiore inferiore a quello della candela precedente quindi c'è stato il key reversal qua questa chiusura negativa quest'oggi se dovesse andare a fare un nuovo massimo e chiudere su questi livelli potrebbe nuovamente disegnare un key reversal comunque la situazione vedete che è all'insegna della stabilità ecco dopo questa pattern di inversione ieri appunto abbiamo chiuso deboli rispetto al massimo di giornata rispetto all'apertura quest'oggi siamo in territorio leggermente positivo ma per ora rimaniamo sotto al massimo di ieri e ancora più distanti dal massimo di venerdì quindi il rischio che ci possa essere una correzione di breve per quanto riguarda il btp per me c'è ancora un possibile ritorno sui centotredici questo potrebbe essere un target correttivo rispetto al movimento che è stato fatto fino ad oggi poi gli ultimi giorni dell'anno sono tipicamente di nuovo una finestra negativa di stagionalità per il btp e quindi vedremo poi nell'ultima settimana gli ultimi dieci giorni che cosa accadrà però ecco per il momento per me l'ipotesi di un ritorno sui centotredici è abbastanza verosimile e poi da monitorare chiaramente il massimo della 114 e 89 perché nel caso in cui smaltisse l'ipercomprato senza riuscire ad arrivare ai centotredici e andasse invece a rompere questo massimo beh chiaramente sarebbe un segnale di forza la rottura della resistenza con target che si alzerebbe sui cento sedici e undici in questa area che vado ora ad evidenziare anche per analisi delle prossime settimane poi le altre domande erano su altri titoli che avete mcdonald's palladio fiera milano allora rimarrei prima sull'italia e andiamo a vedere fiera milano eccoci qua fiera milano che in un buon momento dopo aver toccato questo importante minimo il 26 di ottobre e aver disegnato questa divergenza rialzista che mi pare avessimo già evidenziato in un'altra analisi di qualche tempo fa forse su classe smbc mi pare che avessimo parlato di una divergenza rialzista su fiera milano eccola qua vedete rsi in crescita che esce dall'iper venduto mentre va a fare invece un nuovo minimo quindi prezzi risdivergono rispetto all'rsi ora dopo questa forte salita siamo finiti dalla parte opposta dall'iper venduto all'iper comprato e a ridosso di questa resistenza qua quindi se qualcuno ha preso il treno bene se il treno di questo rialzo è stato perso entrare adesso anticipando la rottura della resistenza prima che il titolo vada smaltire l'iper comprato lo vedo come un rischio possibilmente evitabile poi andiamo a vedere invece mcdonald's che non guardo a dire il vero da un po di tempo eccoci qua mcdonald's stranamente il grafico non è troppo dissimile rispetto a quello di fiera milano anche qua abbiamo avuto un forte rialzo dopo una tendenza a ribasso che è durata praticamente tutta l'estate c'è stato un bel run up con un'inversione a v però ci sono delle resistenze un po più distanti rispetto a quella di fiera di milano questa in particolar modo sui 286.65 dollari e poi abbiamo quest'altra livello qua su questo minimo anche questo vedete questo è stato supporto ora è diventato resistenza e guarda caso è stato toccato come massimo nella seduta di ieri quindi anche qui valgono le considerazioni fatte su fiera di milano se vi siete persi questo run up questa inversione a v andare long adesso col titolo che è entrato in iper comprato e che ci sono davanti a sé queste due resistenze mi sembra un rischio evitabile e poi le altre domande riguardavano invece dunque fiera milano l'abbiamo visto e poi c'è il una domanda sul palladio e andiamo a vedere se dicevamo il palladio se lo troviamo qui ma palladium lo andiamo a prendere magari come future scritto in inglese vediamo eccolo qua palladium future sul nymex eccolo anche qui abbiamo una inversione repentina che c'è stata con questo pattern che direi 948 sì è un key reversal realzista minimo inferiore quello precedente chiusura superiore quella precedente in iper venduto vedete che qua c'è una situazione con un rsi sotto a 30 inversione con il palladio che è risalito e dal punto di vista tecnico li ha chiesti tutti assieme giustamente perché hanno delle similitudini questi questi strumenti anche se sono abbastanza diversi il palladio non è una commodity rispetto a due titoli un italiano e un americano però anche in questo caso vedete che c'è una resistenza qua che è stata leggermente rotta quindi con la possibilità di continuare rispetto a fiera milano anche se ci sono delle affinità e a mcdonald in questo caso c'è stata un'inversione a v l'ascesa per adesso è più indietro rispetto a quella che abbiamo visto in precedenza siamo andati leggermente sopra il primo livello di resistenza siamo ancora lontani dal secondo e con e lontani dall'ipercomprato quindi mentre mcdonald e fiera milano sono praticamente in ipercomprato qua siamo abbastanza distanti quindi spazio di apprezzamento se riuscirà a consolidare sopra 1.095 ne abbiamo fino ai 1180 1183 bene mi pare che ci fosse un'altra domanda riguardo al ts postato nell'area riservata lo scaling lo scaling in influisce sul numero di trader riportati nello strategy report sì certamente influisce influisce perché come evidenziato dunque lo dico per chi non avesse visto il perché non tutti sempre visualizzano a volte non tutti scorrono indietro non tutti vanno vedere quindi ripeto spiego di che cosa stiamo parlando allora vedo anche che effettivamente in questo momento non è che abbia una grande banda quindi valdo momentaneamente a disattivare anche la webcam e poi mi collego via cavo in modo da cercare di recuperare un pochino più di banda quindi un attimo solo di pazienza a livello della diretta eccoci qua allora andiamo in condivisione questo è il sito trading system da 0 a 300 che è il sito web del mio ultimo libro omonimo capire strategie algoritmi a tempo di record che potete acquistare qua dal ibs costo 22 euro o da amazon o dalla feltrinelli o direttamente da franco angeli tra l'altro qui potete iscrivervi alla presentazione che sarà giovedì 7 dicembre ore 17 45 a bologna con rinfresco firma copie e naturalmente parleremo soprattutto di finanza ma per se c'è qualche appassionato di moto gp magari parleremo anche un po di moto con matteo flamini che ha dato il suo contributo a questa pubblicazione c'è un'area una sezione download dove si possono scaricare articoli dove ci si può registrare si possono scaricare degli articoli ho recentemente postato appunto un articolo che riguarda un trading system qua trovate gli articoli che sono già stati postati ci sono due articoli uno che riguarda le slide della prima presentazione che ho fatto a milano il 19 ottobre e potete scaricarli liberamente tutti e questo è un articolo didattico invece che ho postato con l'equity line di un trading system che ho mostrato più volte nel corso delle dirette che opera in modalità contrarian compra i supporti sulle forti discese e vende sulle forti accelerazioni rialziste utilizzando le bandi di bollinger e un canale channel breakout qui se aprite l'articolo trovate la descrizione e chi manda un'email e si registra per registrarsi può ricevere la password per scaricare il listato l'eseguibile per multi charts del trading system ecco è un trading system che utilizza delle entrate scalari va a piramidare la posizione quindi fino a cinque volte e quindi questo va influire chiaramente nel numero dei trade che vengono fatti bene detto questo è data questa spiegazione visto che siamo qui in condivisione approfitto per mostrarvi anche le offerte black friday che sono partite sia su multi charts italia trovate andate la sezione black friday e potete trovare tutte le offerte di prime licenze licenze con advanced strategy pack con offerte col pacchetto di due licenze pienamente operative oppure una licenza s più più backtesting strategy edition eccetera eccetera e poi ci sono le offerte per tutti gli altri servizi sul portale robot-advisor.it andate alla sezione shop e quindi trovate le offerte gli sconti per i report daily per i corsi e per l'hft flow scanner eccetera 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 bene detto questo torno adesso sulla piattaforma e vado anche a vedere se ho recuperato un pochino di banda e se adesso riesco a tornare in condivisione nella vps forse sì vediamo un attimo di pazienza ecco ce l'abbiamo fatta abbiamo recuperato questa macchina e andiamo a vedere la sezione avevamo detto della lista delle esplorazioni con i titoli che stanno facendo meglio e peggio del listino e abbiamo tra i titoli che stanno facendo meglio del listino in questo momento nexi più 0.66 banca mediolanum più 0 46 a 2 a 0 36 ferrari che in questi giorni veramente inesauribile mentre dall'altra parte parlavamo dei titoli bancari con mps che perde parecchio questa mattina ha perso oltre il 4 per cento e poi abbiamo in negativo altri titoli come stellantis leonardo inter pump generali tutti i titoli che stanno facendo abbastanza fatica vado anche a prendere il l'hft flow scanner così gli diamo una occhiata veloce e vado dare un'occhiata anche alle vostre domande su su youtube che sono come al solito la chat fa un po arrabbiare quella su youtube ma adesso rifrescio la pagina e vado a cercare di leggere anche qui le vostre domande ecco che infatti ce ne sono grazie delle analisi guendalina grazie a voi che siete sempre presenti che mi seguite con costanza grazie a disponibilità grazie anche a luca quali livelli di supporto interessanti per rientrare su bamio ed ucg ecco domanda interessante ci guardiamo subito intanto vi faccio vedere questi che sono i flussi di questa mattina li vado ad aggiornare dalla piattaforma hft flow scanner vedrete che ci sono tanti flussi negativi dalle 9 05 quindi la dimostrazione che questa mattina le cosiddette macchinette stanno vendendo la maggior parte dei titoli vedete come stanno vendendo soprattutto bami b per cnh fine ecobank dall'altra parte campari banca mediolanum e ferrari ferrari comprata anche questa mattina dagli hft quindi veramente fonte inesauribile ferrari che sta marciando a delle velocità pazzesche proprio il caso è il caso di dire quindi la domanda cerco di andare a rispondere livelli da tenere d'occhio per bami e per unicredit allora su bami a livello di operatività siamo usciti oggi a 5 e 22 è scattato lo stop profit ricorderete che ho parlato del fatto che sono titoli miei preferiti titoli che abbiamo calcato anche nella rubrica pagamento eccetera eccetera se avete seguito ieri con attenzione dicevo del fatto che qua c'era stato un key reversal ribassista su b per e anche su bami del fatto che pareva una fase distributiva questa del fatto che eravamo entrati in ipercomprato quindi key reversal e discesa che era ipotizzabile che ci potesse essere una discesa quindi stop profit scattato siamo usciti dove rientrare ma adesso secondo me una volta usciti adesso non c'è tutta questa fretta di rientrare questo è un livello di supporto e quindi nel momento in cui si esce da un titolo secondo me bisogna non avere tutta questa fretta di tornare di ributtarsi dentro subito solo perché perde magari un 2 per cento è meglio attendere o un ulteriore discesa e che potrebbe completarsi alla peggio su questo supporto che è stato prima resistenza oppure che il titolo si fermi magari faccia un pattern di inversione senza arrivare sul supporto smaltitoli per comprato quindi questo è il livello sicuramente da monitorare poi ci si augura che magari si possa fermare anche prima formando un pattern di inversione io per il momento comunque la lascerei stare e in attesa degli eventi non ricordate che non è che ci si debba operare tutti i giorni ci sono le situazioni in cui si può tranquillamente anzi consigliabile lasciare un attimo decantare e il classico all'inglese wait and see quindi meno 3 23 tra l'altro sta perdendo questa mattina e mi fa piacere però fare queste didattiche e ogni tanto azzeccarci e ieri mattina infatti avevamo appunto detto che l'ipotesi per me prevalente era quella di una correzione di una discesa su Bami e su Biper che andiamo a vedere velocemente Biper situazione non troppo dissimile da quella di Bami perde il 2,68 per cento rompe questo minimo qua c'era stato key reversal ribassista in ipercomprato e vedete che quantomeno andare long se si verifica un pattern di questo tipo non è mai una buona idea quindi qua c'è sempre qualcuno che compra chi vende su tutti i livelli che è andato a comprare qua su questo massimo non ha avuto una buona idea evidentemente non segue le nostre dirette se conoscete qualcuno che è andato a comprare Biper a 360 ditegli guarda vieni a seguire dirette con malverti che magari la prossima volta non ti capita non ti garantiamo di guadagnare perché quello magari saremo tutti sotto una palma tutto l'anno ma di evitare certe cantonate forse quello sì allora andiamo a vedere unicredit eccolo qua unicredit unicredit ancora non ha preso invece lo stop profit siamo ancora long ritraccia ma meno rispetto a banco bpm perde l'1.45 una correzione che per me è minimale quindi dove rientrare sul banco su unicredit non glielo so dire nel senso che io ancora sono dentro ma a parte le battute per me non c'è ragione cioè al di là del trading system che utilizziamo sul daily che non ha preso lo stop profit per adesso cioè se su Bami e su Biper c'erano i segnali per uscire chi reversal ribassista incapacità di andare a segnare nuovi massimi qui è vero che c'è un gap che potrebbe essere un gap di esaurimento questo che si è formato ieri però il ritracciamento è ancora debole all'interno di un trend così clamorosamente rialzista il titolo è in uptrend cioè andare a uscire adesso se l'ottica temporale di medio lungo mi sembra assolutamente prematuro ha fatto delle correzioni anche molto più profonde vedete qua senza rompere questa trend line rialzista supporti ce ne sono diverse quindi se la prospettiva di medio lungo uscire da medio di unicredit mi sembra prematuro in ottica di trading di breve lo stop profit non ricordo dove ce l'abbiamo lo vado a vedere ce l'abbiamo nella rubrica a pagamento a 20 sopra i 24 e 50 non lo dico per rispetto di chi sta pagando l'abbonamento però sopra i 24 e 50 e quindi in ottica di trading di breve chiaramente più stretto però pure secondo me è prematuro appunto uscire da unicredit dove potrebbe scendere non lo so spero visto che siamo long che non scenda il primo livello di supporto è 24 09 e poi segue i 23 e 34 altre domande che avevate fatto su youtube le vado a riprendere dunque bami unicredit l'abbiamo detto il limiti dove si potrebbe entrare su il limiti e banca iquis andiamo a vedere il limiti il limiti bank il limiti bank ma sinceramente guardate questo livello qua l'ho prolungato l'avevamo già tracciato in un'analisi precedente vedete come i livelli che vengono tracciati spesso ritornino cioè l'abbiamo tracciato era fermo qua sto livello e quindi l'abbiamo tracciato da agosto settembre in analisi fatte mesi fa e se l'andiamo a prolungare vedete che questo titolo si è andato ad esaurire si è fermato a ridosso di questo livello di resistenza che è stato prima supporto ha fatto qui un key reversal ribassista quindi comprare qua non era certamente una buona idea e dove l'ha fatto? L'ha fatto in ipercomprato ora sta ritracciando e questo potrebbe essere un livello di supporto dove aspettare il titolo però deve arrivarci, consolidare, non rompere quindi per ora secondo me va guardato senza fare nulla senza pretese di rientrarci o di entrarci per la prima volta invece banca IFIS andiamo pure a vederla banca IFIS che scende pesante da ieri e oggi perde un ulteriore meno 1,32% dunque questo massimo, quest'area qua è sicuramente una resistenza rotta la quale potrebbe andare a chiudere il gap e riportarsi su quest'altro livello di resistenza quindi abbiamo questo e questo 16,53, 16,98 a livello di supporto questo è il supporto il primo dove poter forse aspettare banca IFIS se siete attenti ve lo faccio io come domanda quando siamo tra un supporto e una resistenza tra un supporto eccolo qua è una resistenza che si fa niente ci si dedica a qualche altro titolo o si sta in pantofole a fare altro ma non a comprare banca IFIS poi vedo che ci sono un sacco di domande questa mattina sembra di essere oggi su Classes NBC veramente andiamo a vedere le altre domande Prismian e Danny Prismian e Danny Prismian sapete è un titolo per cui non vado matto e anche su Classes abbiamo detto che ci sono titoli più interessanti cui guardare qui tra l'altro ho fatto che il reversal è ribassista qua ne sta facendo un altro non ha tutto questo sprint tutta questa voglia di salire titolo che sta facendo peggio del listino insisto spesso anche su questo concetto non focalizzatevi secondo me su dei titoli che fanno peggio del listino con costanza c'è un listino che sta tirando da matti da 20 giorni e andare a scegliere dei titoli che stanno costantemente facendo peggio del mercato o lo fai perché c'è un pattern di inversione dopo tanto scendere il titolo a presumi che possa finalmente invertire ma qua proprio è un titolo che sta congestionando in laterale da mesi e mesi e con ancora tante resistenze di fronte a sé 36,50 che già si è fatta sentire questo 36,50 io sono neutrale su Prismian per me è un titolo attualmente da lasciare stare in ottica di medio e lungo forse rotti 36,50 si potrebbe sperare in un ritorno sui 38,59 però da qui a ipotizzare a un'uscita della congestione la vedo cosa che richiederà settimane se non mesi e sempre che la congestione la rompa al rialzo e non al ribasso poi andiamo a Eni avete tantissime domande quindi cerco di rispondere a tutti ma tra dieci minuti mi dovrò sganciare purtroppo per impegni Eni si è messa in questo momento ha smaltito l'ipercomprato che già era forte qui aveva fatto una divergenza ribassista qua nuovo massimo lo vado a tracciare qua vedete le lezioni di analisi tecnica spero che vi tornino comodo divergenza ribassista correzione ha ritrovato forza ha fatto di nuovo dei massimi però vedete quanto è importante questo livello di resistenza che si è formato qui resistenza molto tosta questa sui 15,80 e il titolo adesso è il laterale secondo me visto anche il petrolio che non è in un ottimo momento vedete che c'è questo supporto sui 14,70 io sono neutrale attualmente su Eni e credo che dovrebbe perdurare questa situazione di lateralità da monitorare questo supporto ai 14,68 che deve reggere perché se venisse rotto c'è il rischio poi di scendere e tornare sul supporto successivo 14,26 primo livello di resistenza e questo massimo qua invece 15,25 che andiamo a tracciare per future analisi quindi per me view neutrale su Eni sembrerebbe anzi quasi più voler scendere che salire quindi attenzione in particolar modo ai supporti poi abbiamo risposto su YouTube quasi a tutto Mediobanca Mediolanum MFB ok con questo chiudiamo i titoli le risposte sulla chat di YouTube vediamo velocemente questi tre titoli Mediobanca non tra gli indicatori magari ma tra i titoli Mediobanca se la connessione che quest'oggi fa un po' le bizze mi asseconda ecco qua Mediobanca un attimo di pazienza per la linea che oggi mi fa un pochino penare una ragione in più per chi come me non ha sempre delle connessioni stabili quando lavora da casa di utilizzare le WPS per fare trading eccoci qua su Mediobanca e vedete che Mediobanca da quando ha rotto questa trendline che avevamo evidenziato tempo fa è partita la fase di debolezza questo chi reversa la ribassista non si è più ripresa in modo stabile e se dovesse andare a rompere i 10-80 sarebbero dolori con la possibilità di scendere di ritornare sui 10-14 che andiamo già a tracciare come supporto il primo segnale invece di ottimismo si avrebbe alla rottura del massimo di ieri a 11,195 sarebbe un segnale di possibile richiusura del gap con ritorno sui 11,67 poi Banca Mediolanum vado veloce perché il tempo per me è agli sgoccioli Banca Mediolanum quest'oggi è in positivo il fatto che abbia superato il massimo di ieri dovrebbe consentire di chiudere il gap a 8,38 il minimo che è stato toccato ieri un minimo invece che si è abbattuto darebbe un segnale di vendita e di possibile short e con obiettivo sui 7,71 poi mi sono perso un titolo avevamo detto Mediolanum e MFEB sì vado a vedere MFEB eccolo qua anche questo titolo che io non amo particolarmente del quale avevamo già evidenziato tante volte la tendenza al ribasso e questo è il livello chiave da osservare che non è stato ancora rotto in close sui 2,95 non mi sembra il caso se non siete andati long nei giorni scorsi quando il titolo è uscito dall'ipervenduto di andarci adesso proprio perché c'è questa resistenza anzi se siete long meglio forse alleggerire la posizione e la resistenza successiva è sui 3,14 poi torniamo vado adesso le ultimissime domande sono davvero tante spero che non siano lunghe massimiliano la presentazione potresti farla anche in altre città domanda che mi avete già fatto che mi hanno già fatto altri purtroppo dipende dalla disponibilità di tempo anche di Matteo Flaminji per me tempo ne ho poco anch'io però diciamo una finestra riesco a trovarla con più facilità rispetto a Matteo che è in giro praticamente dieci mesi all'anno per le gare della MotoGP con un calendario massacrante per chi segue le moto e la Formula 1 cioè ormai siamo arrivati 22 appuntamenti in giro per il mondo con le gare sprint sono 44 gare e quindi certamente quando torna a casa credo che abbia voglia di stare il più possibile con la famiglia e faremo questo appuntamento in Bologna cercheremo di farne magari un altro due però non vi garantisco che poi Matteo ci sia di persona è più probabile che faccia un collegamento via via web però ne dobbiamo ancora parlare esattamente perché adesso ha una trasferta lunghissima che finisce domenica con l'ultima gara del mondiale sono due mesi che come tutti i piloti e tecnici sono in giro per il mondo e quindi deve concentrarsi ancora per qualche giorno giustamente sul suo lavoro e poi andiamo a vedere le ultimissime domande ieri sono entrato short sub per su tu indicazione chi reversa entrato 3535 Andrea grazie bene mi fa piacere poi grazie per milano avendo effettuato buon ingresso mi interessava sapere se era il caso di alleggerire oppure uscire è stato esautivo come sempre grazie bene idem ma anche umberto che è entrato short su biper bene e poi Andrea di nuovo che ne pensi dei gap o meglio l'app a1 su biper a 2 3 27 79 possono essere considerati vuoto inefficiente hai qualche strumento che misura questo allora velocemente quest'ultima domanda biper eccolo qua dunque io preferisco guardare i gap in ottica di trading speculativo o di investimento su candele giornaliere i lap come ha giustamente i definiti li guardo più nell'intraday quindi i miei algoritmi che lavorano i miei trading system guardano i lap solo nel trading speculativo intraday quindi ho dei trading system che li identificano e decidono cosa fare in quelle situazioni naturalmente come tutti i trading system sono basati su delle statistiche intanto qui vediamo biper che è sui minimi di giornata praticamente perde il 3.22 quindi buono per chi è andato short sulle cose che ci eravamo dette ieri io che altro dirvi per me il tempo è scaduto torno giusto per la chiusura sui siti per rimostrarvi quindi il trading system da 0 a 300 che è il sito del libro che appunto potete comprare andando anche in home page e trovate i link per amazon la feltrinelli eccetera eccetera come vi ho già detto prima potete trovare qui del materiale didattico le slide gli articoli tutte le settimane cariceremo del nuovo materiale per chi ha comprato il libro con le password riservate agli accurenti del libro e poi promozione multicharts che arrivano fino al 40% di sconto multicharts italia trattino it e il sito robot trattino advisor punto it la sezione shop trovate tutte le offerte e in home page anche i dati del liban per chi preferisse acquistare non con carta di credito bensì con bonifico quindi ci sono tutte le offerte che trovate nella sezione shop nel carrello e le varie pagine con le quali potete scorrere e andare avanti e vedere le promozioni in corso bene buon trading a tutti ci aggiorneremo domani mattina dove domani mattina parleremo anche un po' di nuovo di trading automatico perché ne abbiamo parlato nella presentazione delle piattaforme ematrading e t4i la scorsa settimana e poi non ne abbiamo più parlato ma giustamente ci sono arrivate anche diverse domande e quindi domani approfitteremo per guardare un po' più di operatività cosa che avrei voluto fare anche questa mattina ma a dire il vero non vi ho mostrato le operazioni in corso sono raccontate siamo usciti da banco bpm ho liquidato anche cos'altro vado a vedere la mia piattaforma che mi è scattato un altro ordine questa mattina ve lo racconto così al volo venduta bami venduta comprata stm comprata stm e venduta banca generale in attesa di rientrare che abbiamo un ordine stop mi pare 33 53 se non ricordo male anzi ve lo faccio vedere al volo poco prima di chiudere ecco qua questa è la piattaforma che utilizzo per gli ordini multi day con tutti gli ordini inseriti quindi l'eseguito su stm in acquisto le vendite di bami in stop profit e di banca generale bene direi che ci siamo detti tutto domani parleremo appunto un po' anche di trading automatico a bo